1 2 3 3 7 8 21 21 21 22 23 24 inizia lo scontro tra Carpisa e Montefusco Socher le fasi finali di questo torneo va via benissimo in campo aperto l'attaccante della Montefusco si trova a tu per tu col portiere entra in aria il suo tiro e arriva il gol del vantaggio difesa altissima un buco alla difesa buona occasione per la Carpisa entra in aria l'attaccante buona il tiro ma si spegne sul fuoco e allora diventa una buona occasione questa entra in aria la mette dietro il salvataggio sulla linea era un gol fatto entra in aria il tiro di punta il palo e poi la palla che attraversa tutto lo specchio ed esce fuori occasionissima sono due compagni al centro il cross in mezzo ci arriva il portiere ed arriva il triplice fischio la spunta la Montefusco Socher per 1 a 0 per 1 a 0 è un po' di quarantino che non so